salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi andremo ad allenare i dorsali ragazzi primo esercizio lat machine faremo una allora tre sedie con 50 54 kg aumentiamo ragazzi dei 50 a 54 faremo una ripetizione presa normale una presa inversa poi ovviamente faremo l'ultima serie ovvero la quarta con 44 kg per max di ripetizione a 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 Prossimo esercizio Latt machine con triangolo Faremo 46 kg Raga aumentiamo anche qua Faremo 46 kg invece di 44 Per 4 serie ovviamente Per 10 ripetizioni O almeno proveremo a farne 8 Prossimo esercizio Rematore al cavo basso con barra larga 20 kg 3 serie per 10 Prossimo esercizio Prossimo esercizio Pulle basso 48 kg 4 serie per 8 Ragazzi Siamo tornati A fare Lo stacco da terra Come potete vedere Ho il tappetino Non rischio più di spaccare le mattonelle Quindi Ora si può fare L'unico problema è che non posso fare 90 kg come una volta Perché quello Innanzitutto non era uno stacco da terra Poi Poi mi devo riempituare L'esercizio Che è quasi un anno Che non lo faccio Tipo Sono mesi Sei mesi Però vabbè Cominciamo con questi 50 Faremo 2 serie Per max di ripetizione 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 Prossimo esercizio Prossimo esercizio Alzate frontali su panca 41 gradi con bilanciere 14 kg Vediamo come va Peso nuovo Più 2 kg Andiamo all'esercizio Faremo 3 serie Per 10 ripetizioni Prossimo esercizio Come prossimo esercizio Alzate laterali su panca 41 gradi Faremo con 10 kg Ecco qua il manubrio Faremo 3 serie Per 8-10 ripetizioni Per 8-10 ripetizioni Tirate Per 9-10 ripetizioni Per 8-12 ripetizioni Prossimo esercizio tirate posteriori alla lat machine cavo alto ragazzi faremo tre serie per 10 ripetizioni con 30 kg cambio di programma lo facciamo singolo ma con 20 kg ragazzi questo è l'allenamento di oggi 59 minuti frequenza media cardiaca 128 battiti al minuto frequenza cardiaca massima 164 battiti al minuto questo è il grafico ragazzi questo è il livello dei battiti abbiamo toccato l'aerobica 138 157 battiti al minuto calore bruciate 508 grazie a tutti 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 grazie a tutti